Per capire bene come sono organizzate gli oggetti, le entità e le funzionalità all'interno di Azure DevOps dobbiamo essere a nostro agio con quello che è, quella che io chiamo la triade, l'organizzazione, il progetto e il processo. L'organizzazione è proprio il punto d'ingresso, la porta d'ingresso della nostra sostanzialmente, possiamo pensarla, azienda, no? Dove dentro abbiamo tutta una serie di progetti. L'organizzazione è, a livello organizzazione avviene la gestione di qui, di tutti quelli che sono gli utenti, eventuali pagamenti e fatturazioni di funzionalità aggiuntive, permessi di accesso e così via. All'interno di un'organizzazione abbiamo tanti progetti che sono effettivamente i contenitori, a livello gerarchico, figli di un'organizzazione, dove abbiamo accesso a tutte le funzionalità di DevOps, le board, le lavagne, le dashboard, la gestione di repository, l'automazione, tutto quanto è contenuto all'interno dei progetti. Un progetto fa uso di un processo. All'interno di un progetto di Azure DevOps ci sono tantissime configurazioni, in particolare quelle che riguardano l'organizzazione del lavoro, quindi che tipologie di lavoro possiamo rappresentare all'interno di Azure DevOps. Abbiamo, per esempio, le user story, abbiamo i PBI, abbiamo i bug, abbiamo gli issue, eccetera. Ce ne sono tantissime, poi li vediamo. Il processo rappresenta, è un nome che noi diamo a tutta questa configurazione dell'unità di lavoro. A sistema ce ne sono già presenti tre, la Gile, la Scrum, la Basic, c'è anche la CMMI, quindi sono quattro, e sono dei default che ci permettono di, si avvicinano magari a quelle che sono le terminologie o le rappresentazioni di chi utilizza una metodologia piuttosto di un'altra. Però a livello funzionale sono esattamente le stesse. Azure DevOps funzionerà uguale a prescindere dal processo che abbiamo scelto, poi vediamo le differenze. Quindi nel nostro esempio di prima, dove abbiamo creato un progetto, avendo lasciato tutti i default, Azure DevOps ci ha dato la configurazione più semplice, la Basic, quelle con meno tipologie di unità di lavoro, di work item, vediamo poi cosa sono, e con le configurazioni delle board più semplici, eccetera. Quindi, organizzazione, progetto e processo. Basta slide, andiamo direttamente dentro la piattaforma e vediamo. Vediamo come rintracciare qui i concetti organizzazione, progetto e processo. Allora, l'organizzazione è facile, la vediamo qui, subito appena entriamo, anche fa parte del nostro URL, dev.azure.com barra micheleferracinit. Questa qui è l'organizzazione. All'interno di una organizzazione abbiamo i progetti, in cui abbiamo aperto il progetto fondamenti, dove dentro abbiamo tutte le funzionalità. A livello di organizzazione, le scorriamo, non le commentiamo tutte, abbiamo una overview generale, abbiamo la gestione dei progetti, degli utenti, fatturazioni per le funzionalità per i team grandi a pagamento, la gestione delle estensioni, permessi, configurazioni per tutte, a livello di organizzazione delle board, e insomma sono configurazioni trasversali che interessano tutti i progetti. All'interno di un progetto invece entriamo nel vivo proprio di Azure DevOps e abbiamo qui tutte le funzionalità sulla sinistra, abbiamo una overview dove abbiamo la possibilità di creare delle dashboard, delle lavagne di controllo, delle board, quindi gestione del lavoro, i repository, le pipeline, tutte quelle elencate prima, test manuali e gallerie di artefatti. Vediamo a livello di progetto, per capire che processo stiamo applicando, il processo è il basic, appunto dicevamo. Facciamo una prova creando un progetto con un altro tipo di processo. Faccio New Project e lo chiamiamo per esempio Agile, è il mio processo preferito. Qui sotto in Advanced vado a cambiare Work Item Process e ci metto Agile. Sì sono quattro, Basic, SMMI e Scrum, vado su Agile, faccio Create. Qui creiamo un nuovo progetto che avrà il nome Agile con una configurazione leggermente diversa. Adesso andiamo a fare un paio di esempi. Per esempio qui, se io volessi creare una nuova unità di lavoro che mi rappresenta dei requisiti, una user story e così via, ho a disposizione queste, user story, task, feature e epic. Andiamo invece nell'altro progetto con il processo diverso, il fondamenti. Se io volessi aprire un nuovo Work Item, vedete è molto più semplificato, epic e task. Il funzionamento base di Azure DevOps è esattamente lo stesso, i concetti sono gli stessi. Non dobbiamo imparare ad utilizzarlo quando è configurato Scrum o quando è configurato Agile. La piattaforma funziona uguale. Però ci sono, possono esserci delle leggere differenze su quello che è abilitato o meno, ok? O anche magari come vediamo alcuni nomi. Ma sotto il cofano funziona tutto uguale. Non è pertinente in questo corso che siamo in un corso di fondamenti, ma giusto per avere un'idea, non entriamo nel merito, ma i processi possono essere personalizzati, quindi possiamo cambiare o crearne di nuovi. Quindi posso adattare in maniera anche molto spinta, e lo vedo nelle configurazioni di Organization, e vado sotto Process, posso giocare con i processi, quelli di sistema non li posso toccare, ma li posso clonare e quelli clonati li posso modificare a piacere. Ci sono tantissime opzioni per cambiare colori, inserire nuovi campi e così via. Quindi Azure DevOps è una piattaforma molto flessibile e bisogna sapere quello che si sta facendo. Abbiamo detto sin dall'inizio di questo corso che Azure DevOps è gratuito e non dobbiamo incorrere in costi aggiuntivi per utilizzarlo nella durata di questo corso. Questo è assolutamente vero e Azure DevOps si comincia a pagare sostanzialmente quando si arriva ad essere in più di 5 persone che lo utilizzano. Adesso che sappiamo cos'è un Organization e che sappiamo che gli utenti sono gestiti proprio a livello organizzativo, andiamo in Organization Settings, ok, e faccio Users. Io qui posso invitare fino a 5 persone. Se ho 5 persone, l'utilizzo di Azure DevOps è gratuito e la sesta comincia a pagare. Per essere ancora più chiari e riassumere ho fatto questo schema. Ci sono tre tipi di licenze. Abbiamo la Basic, di cui 5 sono incluse gratuite in ogni Organization. E quindi ecco perché fino a 5 utenze è gratuito. Quando ci sono degli utenti in un'organizzazione di default viene data la Basic. Quando si raggiunge il sesto utente viene richiesto di pagare la sesta utenza un tot al mese. Oppure possiamo avere Visual Studio. Se per motivi professionali abbiamo abbinato a noi una licenza Visual Studio, questa include l'utilizzo di Azure DevOps. Quindi non andiamo a mangiare utenze Basic. La nostra sarà una licenza Visual Studio e possiamo entrare in tutti gli Azure DevOps che vogliamo. Ovviamente sono incluse nel pagamento annuale dell'abbonamento di Visual Studio. Infine c'è il tipo di licenza Stakeholder. Sono gratuite, se ne possono fare finché si vuole. Ma sono sostanzialmente delle utenze che possono fare operazioni estremamente limitate e tipicamente hanno accessi di sola lettura nei progetti. Possono fare qualche modifica ai work item e poco più. Sono sostanzialmente utilizzate per chi vuole tenere d'occhio lo stato dei progetti ma non è un utilizzatore attivo della piattaforma ma diciamo è un osservatore. Vediamo qui per esempio io ho una Visual Studio Enterprise. Non vado a mangiare le Basic. E se volessi invitare qualcuno vedete che mi chiede la licenza. Quindi metto l'indirizzo email amico.outlook.it Lo invito e gli arriverà un invito ad accedere a questa organizzazione. Gli dico se so che ha la licenza Visual Studio lo dico già qui. Poi ci pensa Azure DevOps a fare il controllo della licenza basandosi sulla mail. Oppure gli dico mangiati una Basic o sei uno stakeholder. Infine dico a quali progetti gli voglio dargli visibilità e accesso. Posso dire uno alla volta oppure faccio ad all e lo aggiungo a tutti.